salve ragazzi per tutto questo nuovo video sono blitz sono ice blaster e oggi siamo ritornati nella nostra serie di pokemon verde foglie e rosso fuoco dallo visuale di blitz si può vedere la ruota e giacchi e della tua si può vedere una evoluzione il persiano che ha usato la rara candy ok io giro la ruota può giungere tua esagerare due monetine non di nuovo che sfiga è giro un'altra volta mai due giri si vende ancora di staccatura scusa per tanti soccata a cosa bella che non c'è staccatura di sorprendenti poco materiale po come è vero e ma non mi esce niente di tutto c'è mi esce sono cose belle niente ho fatto solo due giri ho perso solo io se c'è una mutina in un moneta abbastanza ok io da prendermi il livy a livello 25 tutti e due saranno un giorno perché non possiamo prendere un altro tipo che ci serve per la squadra della tizia no stavo di chiamarlo a fulmine mi stare veloce si si è maschio veloce sui atto strada cavolo ma me lo c'è anzi oggi dopo a vincere un monetino cioè non mi serviva la dietro bisogna prendere adesso il tempo vero della signori devo spostare te 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 devo andare a prendere il te come da fare la palestra oggi così faremo a passi tipo erba 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 sopra il mio nome di tipo elettro che sei già che il nome di tipo elettro io ho chiamato veloce perché sarà veloce si muore subito io sai che mi arrabbia tantissimi anch'io giuro che mi arrabbia di una c'è dei jolt è uno di poco più utili per l'altro che ti siga che mi ha chiamato ok come nella casa di nave che sembra di poco ma è un minuto ma ho chiamato il mio presto e presto stas blaster ok andiamo con faccio la pietra quella elettrica così possiamo subito una bella evoluzione da jolt è un certo mi ricordo dove quale sarà il piano quello dove c'è il penultimo bambanggia quarto poi si voleva avere la pietra qua no che è il casino ma dove c'è una cosa una cosa velocissima d'alta al tizio no sbagliato piano perché cosa ha preso con il corrento gli edifici sicuri si avevano io avevo già corso laggiù due piani giù ho caldo a te due piani giunta due piani giù il dove non era questo è questo noi so qual era tipo come noi fa bene qualcuno conto ma signor signor se questo no non mi fanno le tm non no 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 sono vellute donna l'interno scommetto e che non ho trovato niente quinto piano quinto piano non è quinto piano non è conto piano mi sto arrabbiando dove era in questo vero coloro no fammi vedere c'era questo ma non ho visto bene quattro piano aveva aggiornare il quarto piano aveva ragione che al quarto piano ma io sono così studio che non ho controllato bene se non ti prendevi da il se già volete potrei prenderti ma non mi serve un tipo elettro ciolle si vede se che il gioco non ci serve a prendere se non facevamo la cattura quella prima di entrare niente e il tunnel roccioso sa che nell'erba c'è l'evo al troppo secondo faccio a saperlo perché nella mia serie nozze mi soccato un vuol troppo sto facendo una roba tecnica toglie lui perché non mi serve eventi dove eccoli vi eccolo ciao veloce sei veloce dai vediamo la tua evoluzione dai use da veloce si sta volendo veloce si vede più veloce veloce ciao io io che pesce questo perché non so perché questo è il nostro città bell'ecchiello sono dentro le mosse in poche se che i nostri giorni ci siamo sono andate schifo ho detto veloce perché non sarà utile veloce non sarà inutile withdraw oh my god chi è utile chi è utile in questa palestra non c'è nessuno di utile ce l'ho già insomma per il tuo tipo volo ma manda mi prendo mai che tu prendi il tuo fino anche fly dopo le fly non faccia tutto posso andare a fare la palestra ho dimenticato di prendere il pochino chi è accorto io ce l'ho sempre squadra io non ci provo un po come squadra basta chi imparerà mai corto da una squadra ciò che il flash no ma corto che noi ci ringrazio tu sei un po con questo bambino dammi bambini si vuole nascondere dagli altri ecco anche se non lo so perché non vuoi tenermi no cough perché perché mi sono tenuto no cough Perchè? Cosa? Dai, Drill! C'hai, c'hai Firo, c'hai Firo, che fortuna che è Firo, c'è che devi mettere Firo in squadra al posto di... mi ha visto Ok, c'è, sono arrivato da... la tipa che mi... Da... No dai, se muori Drill? No, è che mi serve per... la palla sta già... Ma dici con chi è, Biggie? Butterfree, Biggie è già morto da un po' Ma c'hanno questo allenatore che aveva... e che aveva... No, mi sono fatto vedere... Oh, ma che... non so neanche chi c'ho tomanti... Mannaggia, mi corso subito... Rapita, scena... no, entel... Oh my god! Mi ammazzò i Pokémon! Ti è messo via dopo... Beh... ci provo, sì... Ma tu chi c'hai dei Pokémon? Mi hai messo il... il... Geridos! Ho tolto il Geridos, ho messo King... Almi era Firo... Adesso devo andare, riprende questa mossa perchè... Mi sono fatto... Mi sono avvicinato troppo a stai allenatori che non li voglio neanche... Not again! Not again! Non li voglio combattere... Non vi voglio combattere... Non ho Pokémon di tipo acqua adesso... Quando avrò Pokémon di tipo acqua... Vi combatterò... Per adesso no... Per adesso... Decido di lasciarvi lì... Noi... Sei pronto per togliere la palestra? Sì... 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 Finalmente? No! Non sono neanche lì! As ... vincere di nuovo! Mag the Va be supposed to be voce? Ma dire no! Devo vincere di nuovo! Non deve neanche vincere! Io zè prende Flaut o per prendermiggio Snorlax. Se basta... Son две Lambda School! medera Big Chad... Xtreme Chad... Xtreme�ra già dog... Xtreme Big Big Big... jimmy prende le banche prendo quattro vuole tendo quattro atto snorlax pronto a mettere dentro per sbaglio a vedere con chi parto famiglia con chi parto sul bari e race come cambio sono pronto io parto con recentemente non sono anche la strada visto quella non domanda si può fare sì sì ma ti vede una notizia troppo più veloce gioco sottato sto spammando e clicca anch'io io spero che non mi esce dal gioco però da un momento all'altro che è inutile ok la storia sta più corte per farlo d'altra poi dietro io come sempre e non ho capito di livello 30 mesi ho perso ma so che si vengono trattati di smittere questa serie e vado poter fare mananzia che basta solo che è meglio che facciamo una scuola sul che è sotto più niente io ce l'ho sotto il campo ha parlato un sacco in tre vedi si mi sono fermato come faccio tarlo sono una madonna di livelli indietro usano anche acido tu l'hai sottato io nello soltanto ma non voglio fare una mossa e no 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 non è la persa palestra easy l'ho perso ce l'ha persa l'ho lasciata ancora con il tuo mio dio santa maria per con cui non hai più che attacca mi sta soltando la squadra o hanno stato il livello a 15 ps start e 15 anni posso usare pozioni un modo non bastano non ne ho pronto per questa palestra non era così pronto sottato su tanga non mi sembra non mosse anche ben però te le masse adesso no per affine così perdo così 25 temi non posso sottotitini non no slip powder perché e fine ho perso ci ho perso sto per guardare un altro pokemon sto per guardare un altro pokemon sto per guardare un altro pokemon non lo sottotitino non lo sottotitino sì è tema di che mi è morto ma anche sì credo che la difficile cosa brutto tu sei poco più ai livellati dei miei io c'è livello c'è il mio dito sottotitino ma anche i tasti vai più ed è da buttare al secondo allenato al secondo poco ma l'ho usato mi sono già svegliato acido mi sta per usciutare ma charis charm and chiamilio specifichiamo bene wow sto in storia su un tabacomo meno sempre questa fine sempre verso meno poco o anche se avete un punto ha perso un poco poti usare fly esatto in verità sì l'ho usato ma gigatrame citi da gigatrame fa lavorare un po come tipo erba della condomenta la squadra come parasa deposito posso farli però drill o ish? io ce la tirerò ben sempre se non ti muore dov'è? questo è la morte io sono stupido io ho due pokémon o pirasect o vinebill per bellezza pirasect anche se tante mosso l'ospettati che metti un po' come al posto di che chi mette al posto di a madrillo il tuo per sempre farfallo finisci con l'umore perché non è mai nel pc è inutile si perchè non sembra che non che imparava a volo ok posso anche cambiarlo adesso ma chi metto il posto su chi mette il posto di sei già della morte c'ho Geridos che puoi mettere il person tanto posso togliere posso togliere che non sarà utile adesso ci non sarà utile possiamo cambiare allora mettiamo un po' giolto e mettiamo ma il ciò volo oh no oh my god bisogna andare più avanti no no fai la cattura dei pj si no no come io ho perso il mio po' come di tipo volo a metà stroppo c'è un pj qua si pj ma c'è un dodo c'è si si riesci a trovarlo e guarda si prende qua ti ho da un rat che che non è non è quanto che sono tutti sottolivellati trovato la cattura anch'io do2 non so se impara il pj eh si 50 costi è una chance se muore sto poco non uso by tomorrow ember morti le morte da amore niente c'è tutta lì le pokeball salva e butte le poche poi uscire ora ma chi si vuole ma che ti vuole che sono notato l'ho catturata perché non c'è la squadra boccatura mirata poco a tutta in tempo si preso sai che sa ha combinato in una natata ha combinato in una natata se non muore la pata se non morirà trattata non morire la tutta mi fai criticare di attacca non chiamerà due non piace chiamarlo a 2 c'è cara a 2 tata e tata noi credo dottata ma c'è anche sotto duo che cavolo di duo e quello chiamo 2 2 e tutta data tutta da 2 in squadra ratta e viva l'auto per pandemi snorlax o più più di che è sui squadra che c'hai per adesso che c'è sui squadra e se vuoi prendere due lo cambierò con forse il mio meno si che si può essere che ci ha detto sconversi e matti 0 la prossima palestra non so di più di chi tipo era di che si mi serve anche a te ti serve che tutti buono bite ma ma mi serve il mio credito scherza bai chi togliamo poffi insieme a 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 chi trovate l'interno ciò detto aspetta ciò para sa che dico mi squadra allora c'è già non non c'ho presso che scuola c'ho move la mia squadra chi vuoi mettere squadra allora vuoi mettere come mette tutto 2 lo mette da 2 si vuole far libera di che metti lo metto davvero attaccato anche grave non mi sa non ce l'ho non so passa che squadra avi è stato a livello 20 in vivo che finisce da parlare doveva andare dove faceva quanti livelli livelli due per te per me del mio ratti che deve aver letta dov'è con il livello 21 si vede il mio ratti che del 21 ok fatto solo faremo vedo il volo i moratti che non è deludantissimo farò spiegato la leg candy per evolvere l'attato il ratti che guarda credo come vado a soldi non so si ho visto sa però un siti cosa città possiamo prenderci il marcia and it molly e il kit mon chan kit molly si sa che puoi saltare degli allenatori sono di tipo lotta o no ma vanno adesso si dai ma che c'è un salato al limite non c'è l'aspetta che è super fiacciato sono efficace tutto tipo volo ma un esatto tipo quello che muore su 2 devo prendere mio io vado a farlo oh my god un po che sento prende il mio tec è vero una sette di squadra ma no 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 non mi può morire poi può morire pomo e me morto che molto cd in santo cielo o poi non ho troppo troppo a livello al cd che riceve metti bene c no trusi no si si era così è perché non si mette le squadre giochi di solte quando non stavo registrando e cambi pochino e non me li dici non faccio più storia lo faccio off camera beh adesso non sono nessuno non c'è nessuno anche un po come tipo volo evviva non è più un po come di tipo volevo da portare mando giù o mancanti poco ma non sto qua ma secondo la bestra vero non parla non farla troppo forte mi hanno scegliato un po come con colpo speriamo che ha lasciato un altro poco non ti consiglio chi muore poco giuro che mi arrabbio mi è già morto un po come anche di morte anche le morti poco uno di più forti chi ci dico è uno dei più forti e adesso sono senza poco mi tipo volo fareste schifo senza poco di tipo vuole sono ciò fai da morte che faccio specco dici di farla tiro dice lo spiro lo giacca cosa ho scambiato non posso più prenderlo lui che posso è prende dodio solusi muore figli per me niente devo so camminare c'è posto schifo morte cambia un po come devi mettila taglia che di cambia poco bella nel catacomba con chi lo cambiamo io cambio con nido ed cico non so perché ma non so all'omento morti questa sua non sta neanche uscendo bene facendo veramente male se che sono andate fatto da cattura una cattura di un po come nell'erba non mi dico da parte poco che chiediamo no devo sacrificare atti che ti dice ad un dosso che caratteristiche perché non troviamo ma una vita no non c'è la soccorso non c'è la soccorso allora che è morto ragazzi per questo video è tutto il posto video di pokemon verde foglio rosso fuoco ciao ciao